Nel nostro matrimonio la mia più grande paura era che un giorno mi avresti lasciata. Sono cresciuta in una casa dove le persone se ne andavano e io dovevo ripulire tutto. Non riuscirei a sopportarlo di nuovo. Allora, quando ho visto la tua valigia ho pensato, beh, era motivata. Era la mia più grande paura. Mi ha lasciata e dopo ho pensato, oh, accidenti, il seggiolino di Paige è nella macchina di Tom, dovrò comprarne un altro. Mi avevi appena lasciata e io pensavo al seggiolino. Era così strano, mi aspettavo di sentirmi distrutta e invece no, mi sentivo, non lo so. Non so come descriverlo. Poi quando sono rientrata e tu eri tornato. All'improvviso sono riuscita a capire come mi ero sentita mentre eri via. Era stato un sollevato. Io ero sollevata. Se non portate altre tartine scoppierà una rivolta. Sì, arriviamo. Che diciamo a tutti? Niente. È la serata di Susan. E nessuno dovrà saperlo prima dei ragazzi. Oddio, i ragazzi.